Da sabato 10 giugno il gioiello di Piazza del Popolo, il Palazzo Ducale, nonché sede della Prefettura, torna ad aprirsi al pubblico, grazie all'accordo tra la Fondazione Pescheria Centro Arti Visive e Federagit Confesercenti Peser Orbino. Le visite saranno accompagnate da guide turistiche che spiegheranno la storia e la bellezza di tutti i luoghi più caratteristici del palazzo. Il Cortile d'Onore, l'Appartamento della Duchessa, l'Appartamento del Duca e il Salone Metaorense. Il martedì e il giovedì sono previsti due turni di visita, alle 16 e alle 16.45, mentre il sabato alle ore 10.30. Sì, è una collaborazione che continua, già iniziata nel 2021 con un accordo sottoscritto e che si riaprono finalmente le porte della Prefettura, del Palazzo Ducale. Quest'anno con una novità, perché abbiamo dato anche la disponibilità a far visitare l'appartamento del Duca, che finora non era oggetto di visita, dove ci sono i nostri uffici, quindi c'è anche il mio, per cui dovrò cercare di far sparire tutte le carte che sono sulla mia scrivania. Però detto questo, siamo ben felici di poter far visitare anche altri locali molto, molto belli davvero. Allora, già da sabato inizia la visita e poi ci saranno, mi pare, martedì e giovedì e il sabato mattina. Il martedì e il giovedì di pomeriggio e poi il sabato mattina. Consiglio di visitare il Palazzo Ducale perché è un palazzo bellissimo, è il simbolo di Pesaro. Ci sono dei soffitti che sono veramente stupendi, poi dei camini che sono meravigliosi, c'è il Salone Metauranza che è veramente uno splendore. Insomma, è davvero un bellissimo luogo da visitare e in cui apprezzare il bello. Il palazzo è della città, il palazzo è dei cittadini, poi dal 1860 c'è la prefettura, va bene, continuiamo a stare. È un museo vivente dove ci sono delle cose da ammirare, ci siamo noi che lavoriamo, quindi è bellissimo perché è un palazzo che viene vissuto giorno per giorno. Ma faremo anche tante cose per Pesaro, capitale della cultura 2024 perché abbiamo voglia veramente che sia vissuto anche in momenti piacevoli, allegri di festa. Diciamo un po' il monumento che ci rappresenta, è una chicca che abbiamo all'interno del centro storico di Pesaro. Era molto importante riaprirlo, farlo vedere. Io personalmente l'ho visto in una delle giornate famose un po' di tempo fa, ma vederlo con accanto una guida che ti spieghi anche magari l'aneddoto nella singola stanza piuttosto che la disposizione di una vetrata all'interno di una serra. Ecco, queste sono cose che comunque danno piacere e arricchiscono poi il pubblico che visita questo tipo di monumenti importante. E qui devo ringraziare Sua Eccellenza il Prefetto che comunque ha dato ampia disponibilità alle nostre guide di aprire, di visitare il palazzo. Non è così scontato farlo perché comunque è sede di prefettura e di uffici importanti. E' una cosa bella anche in funzione, in vista anche della capitale della cultura del 2024, un passo importante e anche l'amministrazione comunale ha fatto un bel passaggio per riuscire a portare a casa anche questa cosa.